Grazie. Grazie a tutti. Come al solito vi dirò due cose dei nostri ospiti, poi sperando di rimanere anche un po' insieme a parlarne con voi. Gianni De Gregorio è un attore, un regista, ma anche un importante sceneggiatore. Questo film, Franzo di Ferragosto, ha vinto, ne parlavamo adesso, tantissimi premi, ha avuto dei riconoscimenti nazionali ma anche internazionali. Tra quelli internazionali, appunto, per esempio, questo al Festival di Londra, intitolato al grande regista indiano Santiago Drey, ha vinto il premio proprio. Il premio. Riconoscimento molto importante. Ma poi, in Italia ha vinto Il nastro d'argento, Il leone d'oro a Venezia come opera prima, Davidi di Donatello, Trecciac d'oro e tanti altri ancora. Quindi è un film che si diceva anche con un costo relativo, che dobbiamo anche, ne abbiamo parlato l'anno scorso per chi c'era, con Matteo Garrone, perché Matteo Garrone generosamente ha reso possibile la creazione di questa bellissima opera. Matteo Garrone con il quale Gianni De Gregorio però intanto ha lavorato alle sceneggiature dei film importanti di Matteo Garrone. Non ultimo, Gomorra e anche gli altri che l'hanno preceduto. Dopo questo film Gianni De Gregorio ha fatto altri film come Gianni e le donne e Buone a nulla dello scorso anno. Sempre nelle sceneggiature, ha lavorato a Sembra morto ma è solo svenuto e poi la serie televisiva Stazione di servizio. Collega Mario Rossimonti, ringrazio anche lui molto di essere venuto perché Mario Rossimonti intanto è il presidente del centro psicoanalitico di Firenze. È un medico psichiatra ordinario della società psicoanalitica italiana. Insegna a Psicologia all'Università di Urbino. Tra i tanti interessi ha lavorato moltissimo sul territorio per 16 anni nei servizi pubblici, quindi una grande esperienza di psichiatria e di psicoanalisi, diciamo, di base. Quindi ha scritto, si è interessato moltissimo all'area delle patologie gravi, ma non solo. Adesso non sto a citare tutte le sue competenze. Io ringrazio entrambi di essere qui con noi, lascerei la parola intanto, abbiamo pensato al collega, e poi interagiremo un po' tra di noi. Grazie. Sì, intanto grazie dell'invito. È un grande piacere partecipare a un'iniziativa così importante di successo. E anche grazie dell'invito su questo tema specifico. Il tema della vecchiaia è un tema importante e drammatico. Beh, io dico subito che è drammatico sia in senso sociologico, ma il vero dramma della vecchiaia sta nel fatto che ciascuno di noi ad un certo punto si accorge e si scandalizza del fatto che la cosa lo riguarda. Cioè il dramma della vecchiaia è io invecchio, non invecchiano gli altri. Gli altri mi restituiscono l'immagine di me che invecchia, ma io non mi sento vecchio. Musatti raccontava, uno dei fondatori della psicoanalisi italiana, un analista enormemente, grandemente brillante, raccontava di come gli capitasse entrando in un negozio nel centro di Milano, di vedere a un certo punto magari in uno specchio l'immagine di un vecchio canuto e di dire ma guarda quel vecchio, ma poi si rendeva conto che era lui. E questo lo offendeva profondamente. Il film mi pare che sia una splendida rappresentazione, immersione in questo problema, in questo tema. Ecco, qual è il tema? Diciamo, essere anziano, invecchiare. La parola anziano oggettiva il fenomeno, non c'è il verbo relativo al diventare anziano. Invece la parola vecchio si carica anche dalla possibilità di declinare questo tema con un verbo, invecchiare, o io direi anche invecchiarsi. Questo poi in fondo è il vero dramma che ci tocca a tutti. E mi pare che il film lo raccolga in perlomeno due aspetti che vorrei provare a sottolineare con voi. Intanto vorrei dire che mi pare che i protagonisti del film siano sostanzialmente due, Gianni e il gruppo delle vecchiette, delle signore anziane. Comincio col dire qualcosa su Gianni. Gianni è una persona che vive a strettissimo contatto con la mamma, donna Valeria, e vive in una condizione direi di tranquilla intimità. Vi ricordate all'inizio il film comincia proprio con Gianni che legge d'Artagnana, la mamma, e la mamma dice leggimi ancora, mi addolcisci queste ore. Durante la notte la mamma chiama Gianni, lo chiama amore, e Gianni si alza e corre. Insomma c'è una intimità che è veramente tranquilla, confortevole, calda, racchiusa all'interno di questa condizione di convivenza. Io penserei che Gianni si è ricavato una nicchia che condivide poi con delle persone, o meglio con una persona, mi pare che sia l'unico amico che compare nel film, che è il vichingo, che anche lui, diciamo, vive un po' in maniera precaria, direi ai margini. Gianni mi pare nel film una persona che direi galleggia nell'esistenza, è un'esistenza che è fatta di piccole cose, di cose quotidiane, di cose molto concrete, molto pratiche, che però poi anche lo stancano, come se portasse sulle spalle il peso di queste tante piccole cose quotidiane pratiche. La spesa, accudire la mamma, prendere un ventilatore dal cassonetto e portarlo in casa. E poi questa giornata è scandita dai bianchetti. I bianchetti accompagnano un po' tutta la giornata di Gianni, che poi scopriamo anche ha un problema di angina, angina stabile, insomma c'è qualche cosa che fa pensare ad un malessere anche di tipo fisico. E quando queste signore anziane compaiono all'orizzonte, sono viste sostanzialmente come un peso, come una intromissione in questa tranquilla intimità, come una sorta di ostacolo a questa esistenza che scorre tranquilla. Ma queste signore si guadagnano un qualche spazio grazie al denaro che altri offrono per loro. E Gianni quindi mi sembra che fin dall'inizio del film sia una persona che vive alle soglie della vecchiaia. Non è vecchio, ma è come se vivesse sul bordo della vecchiaia. Per qualche verso forse potremmo pensare che anticipa la vecchiaia. E perché? Non lo sappiamo. Potremmo fare delle ipotesi. Qualche volta uno ha così paura di ciò che lo attende che decide di anticipare ciò che lo attende gettandosi a capofitto nei fenomeni. È quello che, non so, i colleghi psicologi clinici chiamano lutto anticipatorio. Devi fare un lutto, lo faccio prima. Come dire, mi preparo prima a non subire l'impatto poi del lutto. E in questa situazione mi sembra che Gianni si sia come acquattato dentro e le vecchiette vengono parcheggiate a casa sua, ma anche lui però sembra un po' parcheggiato, diciamo così, ai margini dell'esistenza. Che cosa ha alle spalle Gianni? Non lo sappiamo, però sembrerebbe niente di particolarmente allegro. Sembra che abbia sulle spalle un peso, mentre invece guardando la mamma si intuisce, si capisce che dietro alla mamma, Donna Valeria, c'è una vita ricca, stimolante, della quale resta un certo stile, un uso molto particolare del linguaggio. C'è certamente una grande vitalità che inizialmente porta Donna Valeria a tenere un po' a distanza alle altre signore, nelle quali inizialmente sembra non riconoscersi, per poi esserne invece presa e conquistata. Ecco, mi pare che questi aspetti che ho cercato di delineare in Gianni delinino quella restringimento dell'orizzonte dell'esistenza che è tipico del diventare vecchi. La malattia della vecchiaia, se di malattia in senso lato si può parlare, è questa, cioè come stringere il campo e portare avanti una vita che è caratterizzata dalla lentezza. Qualcuno ha detto la vecchiaia è una vita al rallentatore ed è una vita al rallentatore soprattutto per una questione legata al corpo. Il corpo è il mezzo che ci sostiene nella nostra esplorazione del mondo, il corpo da giovani si fa sempre trovare pronto a sostenerci nei nostri progetti, anzi qualche volta ci slancia verso i nostri progetti, ci spinge verso i nostri progetti. Invecchiando invece il corpo diventa un ostacolo, diventa un fardello, ti rallenta e quindi allora lo sguardo ti cade più vicino, non cade più in lontananza, non ci sono più le grandi prospettive, le aperture, i traguardi lontani, ma ci sono le cose piccole che ti stanno intorno, le cose quotidiane che diventano quelle più investite di senso, diventano anche le più importanti, chiunque si sia trovato da medico o da parente ad assistere al ricovero in ospedale di un anziano si è reso conto di quanto allontanarlo dalle sue cose banali, il comodino, il bicchier d'acqua, crei un enorme disagio, un enorme disorientamento perché appunto quelle cose lì sono la bussola della sua esistenza e mi pare che allora questa dimensione sia molto ben tratteggiata nel rapporto che Gianni ha con la madre in questa anticipazione di questo mondo della vecchiaia così stabile, così chiuso, così concentrato su cose piccole. Questa attenzione alle piccole cose si vede poi anche quando si realizzano delle gravi crisi psicopatologiche, come dire, mentre i deliri dei giovani sono deliri su un cambiamento epocale del mondo, il deliri degli anziani sono sul fatto che gli hanno rubato le lenzuola, ecco, cioè sono sempre su cose contingenti. Il secondo protagonista mi pare che sia il gruppo delle signore anziane e queste signore mi hanno fatto fin da subito venire in mente un'immagine, mi sono sembrate tre fuscelli al vento, disperse nel vuoto di Ferragosto e Gianni e la mamma si trovano ad offrire a loro un riparo. Al di là del denaro che fa da merce di scambio, al di là delle ritrosie della mamma, si mette poi in moto qualche cosa di molto vivo e di vitale. E mi pare che si metta in moto qualche cosa perché questi tre fuscelli cominciano a tessere, ad intrecciare una trama. E questo mi pare che ci riporti al secondo aspetto della vecchiaia, che è anche l'ultimo che vorrei sottolineare, e cioè alla importanza di costruire una trama di senso. La vecchiaia offre una visione panoramica sulla propria vita e forse questa è anche una grande occasione di gettare uno sguardo sulla propria vita dall'alto, diciamo così, a largo spettro, non focalizzati su degli obiettivi che abbiamo davanti e che dobbiamo a tutti i costi raggiungere. Un grande vecchio come Claude Lévi-Strauss, alla soglia dei 90 anni, diceva, entro nella grande età con lo spirito dell'esploratore. Beato lui, e mi sembra una bella prospettiva, d'altra parte lui l'esploratore l'aveva fatto tutta la vita. Ma questa visione panoramica però non può svilupparsi e sostenersi se non ci sono testimoni. Non si può sviluppare e sostenere se si è del tutto soli. E Ferragosto mi pare che segnali appunto l'impossibilità di sostenere questa funzione perché a Ferragosto c'è il vuoto, si resta soli. E qui si apre la possibilità di cogliere un aspetto importante della solitudine dell'anziano, cioè questo essere senza testimoni, senza essere qualcuno, senza avere qualcuno intorno. Cito un romanziere svedese che ha scritto una frase che mi ha colpito molto. lui dice, lo specchio vede solo il mio ultimo volto, ma io sento dentro di me tutti i precedenti, dentro di me porto tutti i miei volti passati come un albero i suoi cerchi, la loro somma sono io. Allora, ciascuno di noi, invecchiando questo si sente sempre di più, è solo con il tempo che si è depositato in lui di fronte ad uno specchio o di fronte agli altri che vedono solo l'ultimo volto. Una persona anziana in ospedale è solo un vecchietto, non importa cosa è stato dopo, poteva essere chiunque, ma non importa quello che è stato prima, scusate ho sbagliato, ma lo specchio restituisce solo l'ultimo volto. Solo lui ha depositata dentro di sé la storia di questa continuità di esistenza che gli altri non vedono. E questo è il problema, cioè chi è che tiene le fila dei propri volti, delle proprie identità, delle tante comunità di appartenenza, i registi, i psicanalisti, i medici, i psichiatri, i filosofi, gli avvocati, cioè il nostro essere appartenuti a delle comunità. Chi ne tiene le fila quando lo specchio rimanda solo l'immagine dell'ultimo volto? Il problema è che si vanno via via rarefacendo e scomparendo i testimoni di queste nostre appartenenze, gli amici avvocati, gli amici psicanalisti, siamo sempre più soli e senza questa possibilità di tenere questo filo di appartenenza il rischio è quello veramente di scivolare in una voragine di una vecchiaia senza nome. Quindi mi pare che un aspetto importante della solitudine dell'anziano sia questo, essere soli con i propri ricordi, soli nel cercare di tenere il filo dei propri volti, soli nel cercare di conservare il senso di continuità e di coerenza della propria storia, soli nell'avere conosciuto diverse realtà di sé e nel tenerle vive via via che scompaiono i testimoni. Un grande filosofo come Bertrand Russell una volta proiettò una fotografia di sé anziano e poi quella di un bambino e domandò ma chi può dire che quel bambino sono io? Solo io, perché la mia mamma non c'è più, il mio papà non c'è più, i fratelli non mi hanno visto così piccolo, cioè lo so solo io. Ecco, e questa è una condizione che fa parte di questa fase molto avanzata della vita. E memorie e ricordi mi pare che siano un tema importantissimo in questo film. Grazia lo dice molto bene, in maniera molto delicata, dice si vive di ricordi, se non li avessi che farei? Si mette a pensare, vi ricordate alla nonna quando c'era il freddo, c'era la neve, ad Assisi quando le venivano i geloni, al fatto che ha vissuto in un sacco di belle case, ai tortellini e alle lasagne, ma per farlo non può farlo da sola, perché questi ricordi da sola si disperdono. Ha bisogno di trovare una trama che può essere narrata a dei testimoni, in un'epoca nella quale i testimoni o i compagni della propria vita sono per lo più persi. Ecco, solo avendo dei testimoni questi ricordi acquistano una vitalità, possono acquistare un senso, possono permettere di ritrovare un po' il succo della vita, altrimenti sono frammenti spogliati di senso. Forse è per questo che ogni tanto tutti noi, credo da giovani, abbiamo l'impressione che i figli ci rubino il tempo e invece poi quando ci capita di avere un nipote abbiamo la sensazione che i nipoti ci regalino del tempo. Il dramma quindi mi pare, e concludo, quello di non potere unire la vita precedente a quella presente e di non poterla raccontare a qualcuno. E quando invece si crea una condizione come quella che Gianni rende possibile, allora si crea una trama, si accende un piccolo fuoco che riscalda, si crea una grande vitalità e il film allora non è solo un pranzo a Ferragosto, ma è intrecciare una trama vitale a Ferragosto e cioè nel momento di massimo vuoto dell'anno. Grazie. Grazie. Grazie, grazie molto a Mario, Mario Rossi Monti e allora Gianni non so per cosa si può partire, una cosa, beh una cosa invece no, penso che si possa partire, quello che dicevamo prima, perché dicevamo che questo film è partito per noi che l'abbiamo scelto su un tema così drammatico e tu ci hai raccontato prima, prima di cominciare questo nostro incontro, che effettivamente un film apparentemente leggero è nato dentro d'idea anche da una riflessione molto difficile, assolutamente interessante. Grazie innanzitutto, grazie al professore per quelle cose bellissime che ha detto, come sempre i registi imparano dopo quello che, no ma è vero perché, no no ma perché c'è sempre dopo, non hai la percezione mentre fai delle cose, magari nasce come un film, una semplice piccola intenzione, ma questa cosa della testimonianza degli altri è una cosa che mi ha toccato tantissimo, forse io l'ho pensato in maniera rudimentale con la presenza, ma mi ha colpito molto, no scusate, no effettivamente questo nasce dall'autobiografia a questo film perché io sono figlio unico, morì mio padre e diciamo io avevo una quarantina d'anni e lì la mamma si scatenò perché ero figlio unico, quindi io non so, mi diceva mi sento male, poi probabilmente non si sentiva male, ma in ogni caso io piano piano avevo la mia famiglia e mi sono trasferito a casa sua e sono stato dieci anni con lei, mentre la moglie e le figlie erano latitanti, queste erano in giro e io pagavo anche il secondo affitto, mannaggia, perché io avevo sperato, il mio orrore primigenio è stato che io volevo metterle insieme mia madre e mia moglie, che era una cosa, una follia, l'ho pagata, ancora sto pagando, quindi allora lì poi c'è stata la diaspora, quindi io pagavo due, insomma una cosa, e io sono stato dieci anni, al di là del, dieci anni in difficoltà, in difficoltà cercando di lavorare perché dovevo anche stare con mia madre, cucinare, fare tutto, poi c'erano le badanti, dovevi cucinare pure per le badanti, insomma è di una complessità, una cosa, no perché grazie, badante, triste, allora era una cosa, sì, tutti i problemi, e quindi io stavo malissimo, cercando di lavorare appunto sempre nel cinema, lavoravo appunto con Matteo Garrone, ogni tanto si partiva a fare un film, però di fatto stavo lì, e stavo anche male, ho preso degli appunti, appunti che io veramente pensavo che erano una cosa terribile, veramente il veleno dell'anima proprio, me li scrivevo la notte ubriaco lì perché bevevo in una maniera, per sostenermi con la cosa lì di mia madre, cioè avevo un'enoteca proprio che mi venne sotto casa in quei dieci anni, venne, si materializzò un'enoteca con quei vini francesi, mi sono rovinato, e poi è andata via l'enoteca dopo la morte di mia madre, quindi proprio è stata sul serio, veramente, e scrissi questi appunti veramente dolorosi, un po' vergognandomi, anche perché erano cose intime, questo rapporto con la madre, così, e li feci leggere ad un mio amico, un mio amico psichiatra, psicanalista, devo dirvi la verità, il mio caro amico di infanzia, proprio l'amico del mio amico più caro, e poi lui mi ritelefonò e mi disse, io ero un po' così, lui mi disse ma io mi sono ammazzato dalle risate, è esilarante questo, come esilarante, io rimasi malissimo perché, proprio dolore, dolore, diceva sì far ridere tua madre che cicciona così, che tu racconti la madre, cioè questa cosa dice esilarante, allora lì mi venne l'idea di fare da tutto questo, di ribaltarlo e di farne una cosa comica in qualche modo, vendibile, cioè una roba, ho detto io provo a metterla a sorridere che è un po' una mia tendenza personale, perché sendo appunto figlio unico, genitori grandi di età, famiglia formale, padre militare, no, bravissima persona, però casa nera tipo Dracula, cioè proprio, io fin da bambino la mia reazione, non lo dico ai dottori, io fin da piccolo ho detto che se non la mettiamo a ridere, finisce male e la mia reazione al dolore è stata sempre questa cosa comica, cioè, nei miei momenti più tremendi mi vengono delle battute esilaranti, è proprio una reazione, scusate ma anche quando ho scritto Gomorra, che sembra strano, io scrivo, mi venivano le cose da ridere e loro me le cancellavano, eravamo tanti, non si può fare, ridevano, però poi me le cancellavano, e quindi ho cercato di fare questo, ho cercato di riportare, e no, perdonate, dico un'ultima cosa, ma anche quando studiavo, io ho studiato con Alessandro Fersen, che è stato un importante regista in Italia, e lui quando c'era Shakespeare, per esempio, io facevo sia per la regia, sia per l'attore, quando c'era Shakespeare, tutti andavano lì, facevano il loro pezzo, andavano a posto, quando andavo io e dicevo qualcosa, Macbeth per esempio, diceva, di chi sono queste mani? Tutti si ridevano, ridevano, e lui, Fersen mi mandava a posto e spegneva la luce, una cosa, io per un anno e mezzo ho sofferto tantissimo, mi ha detto, stavo proprio male, e poi alla fine una volta lui mi ha chiamato e mi ha detto, guarda non ce l'ho con te, tu sei un comico, non puoi fare Shakespeare, non lo puoi fare, non potrai, non puoi fare una regia di un film di guerra, un film drammatico, perché tu ti viene da ridere, non lo puoi fare, e lì mi calmai, ho capito, e cercato da questa defaianza, da questo problema, di farne una cosa di forza, insomma, e quindi ecco com'è andata la storia, quindi viene comunque da un grossissimo lavoro anche, sì, non mi vergogno a dirlo, di sofferenza precedente, per poi ridurlo così in una commedia, così, però posso, però ecco no, la cosa invece delle signore è stata l'elemento scatenante, perché lì c'è stata veramente l'arrivo della vita, io ero pronto finalmente, perché ci ho messo 58 anni a fare la prima regia per il mio carattere, se era normale la facevo a 30, ecco, io sono ben neurotico e ho fatto un percorso lunghissimo, ma lo volevo fare fin da piccolo il regista, e quindi le signore, quando sono arrivate le signore tutto è cambiato, in quel momento di panico, io ho capito che devo seguire la loro, l'esempio della vitalità, della forza che mi hanno dato, cioè una cosa di una energia, di una potenza, veramente lì, a proposito dei testimoni, era come se cercassero il mondo come testimoni, era una cosa meravigliosa, quindi a parte che loro si divertivano come delle pazze, la sera erano alle 9 di sera noi distrutti, e loro erano tutte contente, che faccio domani, allora che vestito c'è domani, che mi metto, tutte così, poi andavano alle feste, ecco, c'è Franceschina che ha lavorato in quel film lì, che lo sa, erano meravigliose e ci, in sostanza, e poi io ho capito che dovevo lasciarle libere nella loro enorme capacità creativa e vitale, e dovevamo seguirle, lezione rosselliniana, noi andavamo dietro a loro, ecco. La sceneggiatura, la sceneggiatura, dove andavo, quindi è stata anche molto improvvisata? Molto improvvisata, c'era una sceneggiatura, c'era una traccia, però loro ovviamente non... Io, dunque, avevamo studiato questo con Matteo, di non farle mai conoscere, le signore, prima, altrimenti avrebbero subito creato, quindi è stato proprio un campo di battaglia, si sono conosciute lì, sono venute fuori le simpatie e gli odi, e io ho cominciato a cercare di capire dove erano quelli che non si potevano vedere, io cercavo di metterle in conflitto, è stato un lavoro, però in realtà facevamo così, la scena è questa, dovete parlare di questo, ma ditelo con parole vostre, come vi viene, più o meno dovete litigare, ecco, anche, però fate come vi pare e fate i movimenti che volete. Il primo giorno fu uno shock, perché naturalmente le signori cominciano a fare la scena, poi escono dalla stanza, e noi eravamo lì con la pellicola costa, no, che girava, tutti quanti mi guardavano, e dice che... Boh, perché loro erano libere nei movimenti, in effetti, io ho detto non spegniamo, e lì ho capito come bisognava fare il film, non spegniamo, perché può darsi che loro ritornano, e magari dicono qualcosa di meraviglioso, infatti siamo stati un paio di minuti, con tutta la sofferenza della pellicola, però sono rientrate dicendo una cosa meravigliosa, naturalmente, e io ho capito che il film erano loro, e non abbiamo fatto altro che seguire, e diciamo c'era un canovaccio, l'importante è che ogni giorno ci fosse un pezzettino avanti nella storia, però loro potevano improvvisare sia sulle parole, sui movimenti, su tutto. Senti Gianni, diciamo tu non ti aspettavi il grandissimo successo di questa pellicola, no? Tutto su un po' è stata relativamente poco, insomma, come è andato questo grande... Ma incredibile, è stato un successo, sì, travolgente, devo dire, perché è andato in tutto il mondo, con degli episodi, che a me mi sembrano ridicoli, cioè, meravigliosi però, che ti voglio dire, ho incontrato il gommista di Trastevere, che mi fa, ti devo dire una cosa, e lui mi dice, ero in Brasile, e lui è un pescatore, quindi va a pesca a fare queste pesche nel Brasile, insomma, e ha detto, ero in un posto con la jeep, in un posto dove non saprei mai tornare, non era una città, non era niente, c'era un bar in riva al mare, sono sceso per farmi una birra e sul telone, in una località ignota del Brasile, stavano proiettando il pranzo di Ferragosto, col vichingo che lui conosce perché è di 3 a 6, ha detto, io sono rimasto scioccato, scioccato, queste sono le cose che mi hanno dato il polso, la dimensione di quanto ha camminato il film, anche in Giappone, io sono andato in Giappone, col film ero terrorizzato, perché ho detto, e invece platea giapponese, tutti, e poi in un certo momento, io ero veramente, e poi sono usciti i sottotitoli verticali, giustamente, e lì hanno cominciato tutti a ridere, era la stessa cosa, lì ho capito che era successo qualcosa nella mia vita, insomma, ho avuto delle gioie pazzesche, pazzesche, è la gioia che ci dai a noi, anche noi, grazie per questo, vedendo questo film, direi qualcosa Mario prima, poi sentiamo qualche... voglio solo dire questo, che è comunque un insegnamento, da questo forse ho capito che se uno vuole fare veramente qualcosa ci riesce, assolutamente, è impensabile che non ci riesce, dipende dalla resistenza fisica, la resistenza proprio fisica, e dal tempo, dal tempo che uno ci impiega, se uno ce ne mette di meno, sarebbe meglio, però se uno... dipende, però si fa tutto, ecco, questo l'ho capito, con sacrifici, però qualunque sogno ti può fare. Grazie. Beh, tu hai stato... non volevo citarlo, però adesso invece sento che forse vale la pena, perché nella tua intervista c'è una frase che mi ha colpito di più, che credo chiuda un po' il discorso anche su un tema, perché voi avete parlato di temi come la lentezza, il tema di dare un senso, le memorie, Mario ci ha parlato anche di tutti questi aspetti così profondi. In un'intervista tu hai detto, pur se provato, conosciuto, amato la ricchezza, la vitalità e la potenza dell'universo dei vecchi, ho visto anche la loro solitudine e vulnerabilità, in un mondo che cammina a passo accelerato, senza sapere dove va, perché dimentica la sua storia, perde la continuità del tempo, teme la vecchiaia e la morte, ignorando che nulla ha valore se non la qualità dei sentimenti. Ecco, questo è il sentimento, per un altro tema di cui non abbiamo parlato, ma che è un altro aspetto, forse, da sottolineare. Dunque, se c'è qualcuno di voi che vuole, insomma, dare una suggestione, una domanda, magari può essere interessante sentire. Ecco, qui c'è, ci sono due. Un attimo, perché se non arrivi al microfono non sentiamo, grazie, solo un secondo. E poi scendiamo, ok. alle signore, no? Sì. La lasciate libere. Sì. Però questo atteggiamento di accettare mi è piaciuto tanto. E mi è piaciuto il fatto che tutto quello succedeva nella normalità. E quindi sono un po' polemico con l'introduzione, che parlava di drammaticità. Io non ho trovato tutto questo drammatico. Come non trovo drammatica la vecchiaia? La trovo normale. Penso che anch'io ci sarò. E tutto sommato è una condizione umana che dovremmo così, forse, accettare come Gianni, senza immaginare di fare i psichiatri o di curarla. È ancora giovane però, eh. Ho detto, l'ho rubata dal professore. No, no, però, grazie comunque. Sì, capisco. Anche io è una suggestione la mia. Insomma, volevo rimandare la sensazione che ho avuto guardando il film. Il film per noi è uno specchio, insomma, è un'immagine. Ci specchiamo nel film, le sono immagini, ci vengono da noi, noi le guardiamo. Ma ho avuto proprio quella sensazione di comunicazione tra dei cerchi interni e un esterno che è, diciamo, la pellicola, l'immagine. Ma forse il bello del film è proprio questa sensazione di poter comunicare tra cerchi interni che stanno dentro di noi, che alla fine escono fuori, no? Che l'immagine che vediamo è la parte esterna, è quella che, diciamo, che noi vediamo. Ma la capacità del film, invece, è quella di far entrare, forse, ognuno di noi dentro un qualche cosa in cui ci si ritrova e ci si riconosce e ci piace. Grazie tantissimo. Grazie. Io direi che al contrario, invece, sento molto la drammaticità della vecchiaia. Mi pare che il film l'ha resa molto bene, diciamo, anche se un po' edulcorata da un clima ironico e dai sorrisi che c'erano intorno. D'altra parte mi rendo pure conto e vedo che la società attuale, in pratica, non fa assolutamente niente per ridurre questa drammaticità, perché assistiamo al vecchio che, appunto, è nucleato quasi dalla società, è ghettizzato, sì, tutt'al più gli diamo l'assistenza sanitaria quando riesce ad averla, per cui assistiamo, non so, una cosa che effettivamente fa male al cuore, no? al vecchio mendicante, che non è un mendicante perché è nato mendicante o perché lo è diventato. È giusto perché, appunto, uno ci avrà la pensione di 300-400 euro, magari deve sostenere anche un figlio. E quindi mi pare proprio, e di questo magari ne voglio chiedere conferma al professore, che da quanto ho capito ha anche lavorato nel territorio, se secondo lui effettivamente stiamo facendo qualche cosa per dare supporto a questa vecchiaia, che per me personalmente, per esempio, è un'angoscia, no? Io sono un ottimista della vita, però quando penso alla vecchiaia è una delle mie grandi angosce, no? Con tutto, non è che sia giovanissimo, però stiamo andando verso quella direzione. E il problema grosso mi pare proprio che il vecchio viene appunto ghettizzato e non si fa niente per renderlo ancora un soggetto sociale, non soltanto tra di loro ma anche con gli altri. E faccio alcuni esempi che mi sono venuti alla mente di possibile integrazione. Per esempio, io sto in un'associazione ascursionistica, sono un accompagnatore e molto spesso, molto spesso, capita abbastanza frequentemente di avere con noi anche degli ultraottantenni, ultraottantenni che ovviamente stanno ancora in una condizione fisica abbastanza buona, che riescono appunto comunque a fare attività con noi e quindi a socializzare e a integrarsi appunto e a fare appunto attività normali. Scusate se sono andato un po' troppo per le lunghe, che un altro esempio che mi è venuto adesso alla mente è un centro per esempio che ho visto qualche anno fa a Berna dove c'era un centro per anziani, che non è appunto il classico centro per anziani che abbiamo noi appunto, magari bello, sì, però appunto ghettizzato per conto loro, invece c'era un centro, il pieno centro di Berna dove c'erano appartamenti per anziani, sotto c'era un centro commerciale, sotto c'era un ristorante, però aperto a tutta quanta la comunità, tant'è vero che noi appunto ci andavamo per fare dei branzi d'affari, per esempio in questo centro e quindi questo qua mi pare, anche se magari era un posto un po' di elite, però per esempio era un esempio nel quale appunto si cerca appunto di coinvolgere l'anziano e lasciare a continuare la vivono nella realtà sociale. Sì, dunque, intanto sono d'accordo in realtà con tutto quello che è stato detto, cioè per esempio del primo o secondo intervento, non mi ricordo, mi pare che sia importantissima la sollecitazione a recuperare il senso della vecchiaia come fase evolutiva, quindi non vederla come un'area immobile, ma come invece una possibilità di movimento, la citazione che facevo di Levi Strauss era in questo senso. Però è una fase evolutiva, però non si può nemmeno sottacere il fatto che è l'ultima fase evolutiva, quindi è una fase evolutiva un po' particolare e dei problemi li pone. Certamente la vecchiaia, come tutte le altre fasi della vita, viene vissuta sulla base di un registro molto personale, cioè così come uno ha attraversato la vita, poi con lo stesso stile più o meno attraverserà la vecchiaia. Quindi ci possono essere tanti modi diversi di porsi rispetto alla vecchiaia. Restano alcuni dati di carattere oggettivo che però non possono essere trascurati. È difficile parlare di vecchiaia perché si rischia sempre di oscillare tra la retorica del vecchio saggio e felice e invece la faccia opposta della vecchiaia come malattia. La vecchiaia non è una malattia, appunto è una fase evolutiva, però è anche vero che questa fase evolutiva è gravata da una incidenza di problematiche serie enorme. Basta pensare alle malattie degenerative, c'è un enorme allarme sociale per il fatto che le demenze crescono in maniera impressionante e crescono in maniera impressionante anche perché le persone invecchiano sempre di più, sempre più facilmente si arriva a livelli di età che prima erano inimmaginabili. Mi pare di ricordare statistiche recenti che sopra i 60 anni è facilissimo avere una malattia cronica o due malattie croniche, io pensavo di non averne e invece ho scoperto che ce l'ho. L'ipertensione è una malattia cronica, se poi ti viene anche un po' di diabete hai due malattie croniche. I tassi di suicidio nel sesso maschile schizzano, dopo i 65 anni la curva ha un'impennata drammatica. Quindi ci sono dei problemi seri, specifici di questa fase. Come dire, non sono tutte rose e fiori. È anche vero però che ci sono un sacco di possibilità di recupero. Mi pare che la suggestione più importante sia quella che ha dato prima Gianni Di Gregorio quando parlando di sé ha detto sono riuscito a trasformare una sofferenza in una risorsa. Ecco, questo mi sembra che sia la chiave di volta di tutto. Anche della psicopatologia, questo lo dico da psicopatologo, diciamo. Le malattie mentali sono situazioni di sofferenza che non si trasformano in risorsa, cioè affondino la sofferenza. Un grande poeta, mi viene in mente il lavoro di uno psicopatologo che ha confrontato due situazioni diverse in cui la realtà ha un forte impatto su un soggetto. Uno ci scrive una poesia, l'altro diventa pazzo. Ecco, l'uno è Rilke e l'altro invece è un paziente schizofrenico che nessuno conosce naturalmente. Cioè il modo di trasformazione, come se questo prisma che è la persona, come trasforma gli eventi, e se riesce a trasformare le sofferenze in risorse, non solo sta meglio lui ma fa bene a noi, perché ci offre un prodotto partecipabile, mentre invece il delirio di uno schizofrenico esprime la sua sofferenza ma resta solo in lui, poveretto, non diventa qualche cosa. Allora, anche la vecchiaia forse potrebbe essere vista come una situazione problematica, sofferenza forse troppo, ma problematica che può essere trasformata in risorsa. E mi pare che sia questo, io non so, penserei che questo è uno degli elementi chiave del successo del film, perché ti mostra la possibilità di trasformare una situazione di cui viene colta abbastanza facilmente da molte persone la problematicità, se non la drammaticità, invece in una risorsa. E non dimentichiamoci poi che la prospettiva, e finisco, che ci propone il film è quella di un'isola felice, perché l'anziano a Ferragosto non va mica a casa di Gianni Di Gregorio, viene ricoverato in ospedale, viene messo nell'ospizio, viene lasciato solo a casa, senza servizi, appunto prima si parlava di servizi, i negozi si chiudono, il giornalario si chiude, quindi questa è una culla felice che ci fa vedere cosa succede se offri all'anziano questo tipo di ambiente, che raramente gli è offerto. E concludo dicendo che, mi è capitato, io non me ne occupo, non sono uno specialista del campo, ma ho sentito vari contributi su questo tema, attualmente anche gli interventi sulle malattie degenerative sono basati sulla offerta di un ambiente arricchito, cioè la stimolazione vitale ambientale permette un recupero anche sul piano della plasticità neuronale, quindi è un'età nella quale è importante poter offrire situazioni stimolanti, arricchenti come quella che viene offerta a queste vecchiette nel pranzo di Ferragosto, ecco, magari non solo a Ferragosto, tutti i giorni. C'è un intervento? Sì. Può scendere un altro in cima pure. Niente, la citazione del professore mi ha fatto rispetto alla frase di De Vistos, in relazione alla grande età. Mi ha fatto pensare per un attimo alla parte in cui la figlia, il personaggio madre del medico, recita quella parte in cui sembra dormire. Mi chiedevo se l'approccio neorealistico, quindi, diciamo, anche di discendenza rosseliniana, che avrà potuto anche approfondire tramite Garrone. In questo caso non c'è stato, ovvero sì, c'era un decoupage a priori. rispetto proprio a quella frase, a quel momento. E quello è un momento, sì, infatti molto bello, molto importante, ma devo dire, quella signora lì era mia zia. E la conoscevo. E conoscevo anche il valore proprio intellettuale di lei, perché è anche di ironia, di tutto. E, diciamo, sicuramente c'era la situazione in cui io andavo a dormire lì, questo mi ricordo, in cui io le tenevo addirittura la mano, poi non so più se l'abbiamo fatto, perché cercare di farla stare zitta per dormire qualche minuto. Però lei ha dato libero sfogo, e secondo me le cose più belle, come ha detto il professore, perché lei ha detto proprio, ha parlato di Bologna, dove lei abitava, ha parlato di... Poi sono usciti i tortellini e le lasagne, ma era tutto convogliato. Certo, lei era una donna molto preparata, me lo aspettavo da lei che tirasse fuori qualcosa, ma non sapevo cosa. Però la nostalgia, il ricordo, la libertà di parola e questo momento dell'incontro, era combinata così la scena. Lei è andata oltre, è stata lei che è andata oltre, perché lei addirittura i tortellini, i Bologna, cioè ha fatto una scultura in quella cosa lì. Io non sapendo che fare ho detto andiamo verso la finestra, verso l'alba, così capiamo che è l'alba. Ed è venuta, secondo me, una delle scene più belle che io amo di più. Non era così, era preparata la situazione, si voleva arrivare a quel momento, però non era del tutto, non era scritto così. è stata lei proprio che ha portato. Grazie. Grazie. C'è qualche altra domanda? Mi sembra in cima, forse. questo ultimo discorso mi dà prima di lasciarci un'occasione, perché io, quando poi faccio queste brevi presentazioni, mi piace molto pensare anche diciamo all'origine delle parole che noi usiamo. Mi sono quindi chiesto fin dall'inizio quale fosse l'etimologia della parola precarietà che abbiamo preso come rappresentazione, come simbolo ed esperienza di questo nostro ciclo. Stasera, la settima serata, fino adesso non si era accolta, non era venuta l'occasione, quindi ho pensato di sfruttare questo momento per potervela dire, perché precarietà in realtà viene dal latino precarius, che vuol dire ottenuto con preghiere, che a sua volta viene da prex, che vuol dire preghiera, quindi definisce uno stato di debolezza dove qualcuno in qualche modo ha bisogno di una, deve pregare per ottenere qualche cosa. Mi è venuto in mente perché molti dei discorsi che sia Gianni di Gregorio prima anche Marilossi Monti hanno fatto, mi sembrava che tendessero a sottolineare parlando di stimolo, di legame, di rapporto, di sentimenti, di emozioni, oppure come ci diceva prima, no? Lei quando parlava di questa possibilità degli anziani di vivere in una sorta di comunità, però fortemente, ce ne sono molte, questa è un'esperienza che è molto tipica della mia esperienza del nord Europa, in Olanda, in Olanda molto. Allora, tutto questo ci rimanda al grande tema appunto della precarietà intesa nel suo aspetto della possibilità di chiedere qualche cosa, perché chi è precario deve chiedere, direbbe un latino è nella prex, è un precarius. E dunque questo apre però il grande tema di chi risponde a queste preghiere, come diceva prima giustamente Mario Rossi Monti, c'è anche il problema sociale, collettivo, culturale della struttura delle nostre famiglie. L'istate diceva ci sono 16 modelli familiari in questo momento, allora dunque le nostre famiglie come rispondono a queste preghiere? Ecco, questo credo è un tema molto profondo perché attraversa non soltanto l'aspetto dell'anziano ma quello delle relazioni interfamiliari. La grandezza, la bellezza, mi sembra adesso di poter dire per finire di quest'opera meravigliosa di De Gregorio come diceva anche prima Mario Rossi Monti è questa, di essere riuscito a dare in fin dei conti una speranza, ma non è una speranza credo soltanto, è la speranza di noi psicoanalisti, lasciatemi dire, cioè la speranza che in una situazione appunto drammatica, dolorosa si possa creare quel ponte di comunicazione emotiva, affettiva che possa dare un senso, costruire una storia spesso drammatica dei nostri pazienti, dei noi analisti all'interno di una relazione che però sia emotiva, affettiva, empatica. Questo film credo questa sera ce ne ha dato una prova diretta, no? Grazie. Bellissimo. Allora, vuoi concludere e vedere qualcosa Mario ancora? No. Allora, io ringrazio intanto i nostri ospiti che sono stati con noi, ringrazio voi che siete rimasti con noi per più di un'ora a condividere questa credo, spera, spero bella esperienza comunicativa, però prima di lasciarvi mi piace ricordarvi i nostri ultimi incontri perché domenica finirà questa nostra rassegna, però con incontri tutti molto interessanti perché domani pomeriggio avremo la rassegna dei corti, dei corti fatti dai ragazzi delle diverse scuole di cinematografia, saranno diversi corti, saranno commentati e introdotti dal collega sempre della SPI di Roma Fabrizio Rocchetto, avremo poi nella serata in questo tra le 17 per chi vuole intervenire, molto interessante perché i giovani finalmente avranno modo di parlarci anche loro del tema, avremo poi nella serata scusate il film bellissimo di Cappuccio che invece parla delle tematiche riguardanti il lavoro commentate dalla nostra collega di Milano Anna Ferruta, per finire domenica alle 18 ci sarà la consegna che il premio della SPI ha voluto dare quest'anno ha premiato il film Miele, un film bellissimo, avremo l'opportunità di avere con noi non solo la produttrice ma anche la regista la Valeria Colino e l'attrice Jasmine Trinca con la quale potremo un po' dialogare. Ancora grazie a voi e ci vediamo nei prossimi incontri. grazie a voi grazie a voi Grazie a tutti.